Sei ostinato, Scott. Ma perché? Proprio io. Perché sei strano. Ah, un matto! Ecco finalmente una buona ragione. Sì, ma non è solo questo. Sai una cosa? Se volessi... Beh, me ne comprerebbe tre di macchine. Come vedi, i soldi non mi mancherebbero. Non basta avere delle macchine per diventare un pilota. Ci vuole qualcuno in cui credere. Ah, conosci le corde da toccare. Forza! Continua. Conosco quella sensazione che ti prende quando stai per farcela. E io invece, purtroppo, non l'ho provata. Se mi segui, ti assicuro che la proverai prima di quanto credi. Se è così, ti rispondo che accetto, anche perché voglio battere Kurt Weiss. Davvero? Ma sì, certo che accetto. Ecco, ne a voi. Hanno ragione quelli che dicono che col caldo ci vuole l'alcol. Grazie. Grazie.